Sì, sì, adesso ce ne sono tre in campo che continuano a correre all'impazzata, sono in difficoltà enorme, finta contro finta e non l'hanno agganciato. L'altro pure ce n'è soltanto uno che capisce che è in porta, ma adesso non ha scampo, è fermato anche lui. Un triplice invasione al Borussia Park, intanto grandina non soltanto sull'Italia ma anche sull'Inghilterra, un cambiante 0-4 in casa contro l'Ungheria in testa al 2-3, serie A in Nations League per una classifica, in questo momento dice Ungheria 7, Germania 6, Italia 5, Inghilterra 2-3. Grazie a tutti.